Tre mesi fa non era passata inosservata l'assenza di Tano Grasso, leader storico del Lacio, poi a capo del Movimento Nazionale Antiracket, ai 25 anni della fondazione del Sodalizio Randino. Un'assenza che oggi suona ancora più strana alla luce della presenza in prima fila dello stesso Grasso all'analoga ricorrenza svoltasi a Sant'Agata Militello. Che i rapporti non fossero idiliaci tra l'associazione ed uno dei suoi fondatori si intuiva, ma adesso è un altro leader storico del Lacio, Serino Damiano, uno dei testimoni al processo di patti contro il racket, a spezzare il silenzio e spiegare al nostro Tg cosa stia avvenendo. Ci sono dei punti di vista con i quali si va d'accordo nella famiglia, nella comunità e ci sono dei punti di vista per cui non si può andare d'accordo. In questo caso il nostro amico concittadino Tano ha preferito disertare quella di Capodorlando, ancora non abbiamo capito il motivo bene. Questo ovviamente vi delude, lascia molta amarezza, no? Certo, senza ombra di dubbio avremmo preferito anche la presenza più massiccia delle persone dell'età che avevamo anche invitato perché i 25 anni sono nati a Capodorlando, questo associazionismo di cui ci si freggia, ci si vanta è nato a Capodorlando, volenti o nolenti. C'è anche chi ha detto che servono più testimonianze in tribunale e meno passerelle, voi eravate stato un po' l'emblema delle testimonianze in tribunale. Abbiamo continuato nel nostro percorso sia ad accompagnare persone in tribunale sia per la denuncia e sia anche ad andare a trovare persone di altri paesi, di altre regioni che stavano testimoniando e noi del lascio siamo stati presenti. Non ultimo il dottore Velardi, il farmacista nostro compaesano che ha denunciato sia il commissariato che presso di noi e anche in questa divisione c'entra anche il fatto che c'è stato un tentativo di commissariarvi, di far sparire l'ascio, di farla confluire in FAI Capodorlando? Sì, non sarebbe questo il problema se fare FAI Capodorlando o meno e che all'interno del progetto della FAI ci sono degli articoli o dei punti di vista che da noi non sono condivisi. Grazie.